ciao amici ci troviamo al lago del matese mio padre proverà a spingermi il più forte possibile esatto questo è il tentativo di un record mondiale dobbiamo superare i 75 chilometri orari con lo sviluppo forza antonio vai accomodati sei pronto dietro mantieni i freni ma non tirarli metti dentro la maniglia metti dentro la maniglia abbassa 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 sei pronto 1 2 3 record mondiale battuto